Ciao amici eccoci qui per un veloce video, volevo farvi vedere l'ultimo arrivato in edicola che è il casco di Luis Perez Sala dell'89 della collana i caschi dei grandi piloti di Formula 1 edita da Centauria, è il numero 63, la buona notizia è che Centauria ha deciso di prolungare fino al numero 85 le uscite ancora non c'è una lista aggiornata ma volevo portare la vostra attenzione lo sponsor Camel di sigarette personale di Sala che è già applicato al casco mentre precedentemente Centauria per Prost e per Nigel Mansell aveva fornito le decal separate qui lo troviamo già fissato è una bella sorpresa che è difficile da trovare nei modelli così da edicola ma anche in quelli un po' più costosi a meno che non siano edizioni speciali che provengano da qualche produttore che già prepara tutte le decal affisse a me è successo con qualche modello dal Giappone della Tyrell che arrivasse già con lo sponsor Mide 7 comunque una bellissima sorpresa sia per la decal già fissata sia anche per il prolungamento della collana che speriamo possa regalarci ancora bei caschi e soprattutto di buona qualità di solito in questi primi 65 ne abbiamo avuti alcuni fatti molto bene altri un po' meno la pecca che mi sento di sempre evidenziare è il fissaggio delle due semicalotte del casco che però insomma per la cifra e per quello che ci dà Centauria a 13 euro ad uscita è una cosa che va più che bene e che possiamo tranquillamente sorvolare anche perché ci sono veramente alcuni caschi alcune alcune riproduzioni che troviamo solo solo in questa collana un saluto e alla prossima vediamo quali saranno i futuri i futuri caschi noi ci rivediamo qua o ci leggiamo su Twitter o di Instagram sempre a rtruccato 83